Io ti rispetto, ti rispetto e quindi me lo sono preparato qui sul tuo ritorno prestigioso, ci sei mancato molto. Mi basta che è bianco o nero, nel senso che anche questa volta, alla luce del risultato di questa sera, il colore della stagione della Roma assumerà una tonalità ben definita per una partita. E mi auguro che splenda di nuovo il bianco che abbiamo già imparato a conoscere, che abbiamo visto a Tirana, che è lo stesso accade a Puglielmo. È tornato dopo 15 giorni di pioggia e terra rossa, Lorenzo Fares che è un nostro caro amico. Mi sono abbronzato, adesso dico l'hashtag, perché prima del Foro Italico sono stato a Cagliari per lavoro e lì sì, 30 gradi, a Roma è diverso. Il mio hashtag è déjà vu, perché riprendo un po' quello che diceva Alessandro, dopo un anno siamo ancora qui a parlare di un campionato di fatto chiuso in anticipo, con la Roma che non si sta poi impegnando più di tanto per arrivare a Dama, ma con una finale europea da giocare, quindi ci giochiamo tutto nel bene e nel male, speriamo ovviamente nello stesso epilogo. Sono curioso di sapere l'hashtag di Piero Torri. Ciao Piero, buonasera, ben trovato. Ciao, buonasera, ti deluderò perché è un hashtag privato, consentitevelo. il mio hashtag è Luisa Montu, che era una grande tifosa della Roma, viveva in Sicilia e purtroppo il giorno dopo la qualificazione che lei ha visto, la partita con il Bayern Leverkusen ci ha salutato perché da tempo era in lotta con un maledetto tumore, per cui le mando un bacio dovunque sia. Ci accudiamo, assolutamente. Tra l'altro era una grande spettatrice di questa trasmissione, prima ancora della signora in giallo-rosso. Mandiamo un bacio e anche alla famiglia, grazie Piero per averlo ricordato. Iniziamo da questa sera, partita appena conclusa, due a due che, diciamo, arrivati a due giornate alla fine, pregiudica quasi del tutto la qualificazione alla prossima Champions. Attraverso il campionato. Nel bianco o nero, anzi, nel giallo-rosso o nero è compreso anche quello che succederà al prossimo anno, cioè non solo il risultato di Budapest determinerà il giudizio finale in maniera molto crudele, tra l'altro, di una stagione che invece è lunga una cinquantina di partite abbondanti. 55. 55, tutto poi alla fine verrà giudicato a seconda di quello che accadrà in 90 minuti, speriamo 90 se il risultato è positivo e ti determina molto anche del futuro, perché sappiamo quanto vale in termini economici la qualificazione in Champions, sappiamo che la Roma la manca da cinque anni e tra l'altro l'Europa League ti darebbe addirittura la prima fascia, quindi una Champions anche da vivere, no? In un certo modo. E un'altra partita per vincere un altro trofeo, eh? Esatto. C'è un pacchetto in pali a Budapest. Alan sta già preoccupato. Con tre cose dentro, una Coppa, un'altra finale e una Champions con prima fascia. Dall'altro lato, se dovesse andare male, non mi sorprende che sia andata così oggi, io mi ero già abbastanza rassegnato al fatto che la Roma attraverso il campionato non sarebbe arrivata in Champions, ora bisogna capire quello che succede mercoledì. È molto difficile, no? Mettere insieme tutte le varie cose, combinazioni, chi si qualifica, perché poi c'è di mezzo la Juventus, la notizia di stasera mentre giocava alla Roma. Meno dieci. È arrivata la sentenza, meno dieci, che al momento ti tiene, mentre si gioca a Empoli-Juve, ancora virtualmente sopra la Juve, ma c'è un secondo processo. Io la Juve non la voglio considerare. Diciamo che ne... Eccola la classifica. È come se i risultati. Intanto l'Eppoli sta vincendo contro la Juventus. E quindi la Roma è sopra la Juventus, che secondo me vedrà ancora ridotti i suoi punti in classifica. Diciamo che non la consideriamo, ma se la Fiorentina mercoledì vincerà la Coppa Italia, un posto per l'Europa League non c'è più nel campionato. E quindi la Roma dovrebbe arrivare davanti all'Atalanta per sperare di andare in Europa League comunque. Se invece l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia e la Roma e la Juventus dovesse finire sotto la Roma al termine di tutti i processi, sarebbe comunque garantita almeno l'Europa League, che sarebbe una piccola consolazione, ma comunque importante. Non ho molto da ridire sulla formazione, le scelte, quello che ha fatto Murigny nelle ultime gare, io lo capisco. Capisco che è talmente grande quello che tu puoi fare a Budapest che ci sta di rinunciare alle possibilità al campionato, dove sarebbe stato comunque complicato. Detto questo, poi magari ci arriviamo dopo, il giudizio sul campionato nel suo complesso resta deludente, ci manca una controprova. Se la Roma non avesse avuto l'Europa l'anno scorso, non l'avesse avuta quest'anno, dove sarebbe finita? Non lo so. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Però comunque ci stanno i fatti. I fatti dicono che in Europa hai fatto un percorso straordinario. In Italia, da ormai cinque anni, la Roma non conta più. A me questa cosa un po' disturba, un po' tanto disturba, perché non è in linea il rendimento della Roma. Togliamo oggi, togliamo le ultime partite. Cinque anni ci metto dentro. Da cinque anni la Roma fa meno di quello che potrebbe in campionato per tutta una serie di motivi e non riesce a invertire questo trend. È chiaro che poi, se c'è un'Europa League da mettere accanto alla Conference, ce ne faremo largamente una ragione. Però, fino a che non succede, è giusto secondo me. Saremo in trepitante attesa. Lorenzo, che aspettative avevi nella partita di questa sera? Se ce le avevi, chiaramente. No, ne avevo poche, come ne avevano prima di questa partita pochi, tantissimi tifosi romanisti. Leggevo da parte di tanti tifosi romanisti prima della partita di oggi. Adesso mettiamo le terze linee, mettiamo in primavera. Quindi, se poi una partita del genere finisce come è finita, non c'è da scandalizzarsi. Mi riallaccio al discorso finale fatto da Alessandro per dire che, secondo me, almeno a mio parere, è maggiore la soddisfazione per essere arrivati in fondo all'Europa League, piuttosto che la delusione per un campionato di questo tipo. D'altra parte, la Roma purtroppo ha dimostrato con i fatti di non avere una rosa tale da poter sostenere due competizioni. Perché infortuni, perché c'è un attacco che non segna, e questa è una cosa che ormai da settembre, da agosto si sta verificando. E quindi, vedere una squadra che senza segnare neanche un gol nella fase eliminazione diretta dell'Europa League in trasferta riesce ad arrivare in finale è una sorta di miracolo sportivo. E quindi io, va bene, è un rischio andare a Budapest e giocarsi tutto, ma ci siamo andati a Budapest. E questa è la vera notizia. Chi conosce, tutti noi conosciamo la storia quasi centenaria della Roma, sa perfettamente che questo club non è mai arrivato due volte di fila in una finale europea. E quindi, esserci arrivati già a questa, deve essere vista come una vittoria. 2-0, intanto, dell'Empoli sulla Juventus. Piero, prima di darti la parola, introduco Riccardo Cotumaccio, che è arrivato, incamiciato, sempre più bello. Grazie per la settimana scorsa, chiaramente Riccardo. Vai pure. È stata talmente forte l'emozione di sostituire Gabriele Conflitti che oggi non riuscivo a tornare nelle vesti del pagliaccio, del giullare. Buonasera a tutti, pardon per il ritardo, i social già ricordati, ma insomma lo ricordo siamo su Twitter all'hashtag Alcircomassimo, siamo su Twitch. A breve, anche se oggi è difficile, i primi meme della serata e poi quiz e tante altre sorprese. Grazie, grazie Cotum. Piero, sono qua. Eccomi. Io, insomma, un po' per il piacere del dibattito, un po' perché mi piaceva essere un po' Bastian Contrario. Io stasera mi aspettavo qualche cosa di più della partita. Dalla prestazione, dalla formazione, dall'atteggiamento? Anche dalla formazione, soprattutto dopo che ho visto entrare l'ispanico nel secondo tempo, perché costringe Bove, uscito malconcio, direbbe Alberto Sordi, in un famoso film da Leverkusen a fare il terzo centrale difensivo? C'hai l'ispanico, metti l'ispanico, adesso non sto a criticare a Murigno, però a posteriori mi vede di magari metti l'ispanico, Bove lo metti in panca e confermi tutto il resto. Ma aspettavo di vincere la partita di stasera, perché io credo che non sia una frase vuota, vincere aiuta a vincere. Credo che avrebbe fatto bene a tutti, intanto ti avrebbe consentito di avere una partita di vantaggio a due dalla fine sulla Juventus o su quello che resta, perché io sono convinto, come Sandro, che per mai questo l'altro anno le coppe non le fa, questo dice la mia etica e la mia morale. Poi mi rendo conto che magari hanno altre morali con cui non mi voglio confondere. Insomma io mi aspettavo qualche cosa di più, è vero che quando cambi tanto, però avevi cambiato tanto pure a Bologna, a Bologna avevo visto una squadra con le idee chiare che c'era la voglia comunque di giocare. Stasera ho visto una squadra un po' confusionaria nel primo tempo, poi è migliorata, ne avevi resa. Insomma io mi aspettavo i tre punti. Intanto perché vorrei fare più dei 63 punti dell'anno scorso, la Roma sta a 60, tu dici ne vince una, l'ultima non so come spezza che succede. Soprattutto dopo Budapest, speriamo di avere dei posti positivi. Come dice Sandro, io spero di trovare una Fiorentina abbacchiata, che se la Fiorentina vince la Coppa Italia e te non riesci a fare due su due, a Roma fa la conferenza, è la migliore delle ipotesi, a prossima stagione. Nella peggiore, nella peggiore con la sconfitta Budapest. Con la sconfitta Budapest, sì certo. Quindi insomma anche per tenere viva una speranza, perché se tu vai a due punti dal Milan, domenica c'è Juve Milan, io ho l'impressione che a Juve dopo i dieci punti di stasera, se si è un po' lasciato andare, tra l'altro stavano cercando che faccia passare questo concetto, è afflittiva, non gli fai fare la Champions League, è più afflittivo di quello. E no, la Juve per quello che ha fatto, tra l'altro la sentenza di stasera lo ribadisce, stiamo parlando di lealtà sportiva signori e la lealtà sportiva è il primo fondamento dovrebbe essere uno sportivo. Chi se dopa non è leale. Quindi chi infrange la lealtà sportiva fa una cosa fuori le regole. Quindi non dovrebbe, poi insomma c'è l'UEFA, c'è la seconda tranche del coso, per cui insomma io non aspettavo qualche cosa di più. Però insomma ho scoperto con Roma, c'ha due stopper in più. Uno è Belotti e l'altro è Abram. Ragazzi, i due centranti d'Aroma stasera, Belotti, Porello. Pure sfortunato Belotti. Ho capito. No, no, no. Per me fa una prestazione da 4 e mezzo, però dico, non ti aiuti. L'unica vera persona quasi che c'è per fare il 3-2, quel tiro di Pellegrini, chi ora impalla? Abram. Stava l'ammezzo, sto colosso, Debbano. Cioè, io, ragazzi, io nella valutazione della stagione a Roma, a Roma ha giocato senza centravanti quest'anno. Cioè, ma adesso, io vi ripeto, io c'ho in grandissima simpatia a Abramo e devo dire che non mi stava assolutamente antipatico al Gallo. Però, attete un colpo. Molto peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso Ebra mi colla a fatti in campionato come in Coppa. Avevi Pellegrini che ha segnato 9 gol in campionato. Avevi comunque una squadra che era molto più concreta sotto porta. Per questo io tendo a valorizzare ancora di più l'impresa fatta in Europa, perché questa squadra, in Europa i problemi li ha avuti lo stesso, però ha tenuto talmente bene a livello difensivo contro avversari anche di un certo livello da riuscire ad arrivare in fondo. Mi è piaciuto molto il dato che hai dato, perché io ero arrivato alla semifinale, cioè tre partite senza contraste. Quattro partite senza contraste. La Roma, veramente. Quattro partite è trasferta dagli ottavi del finale. Dai sedicesimi. Dai sedicesimi del finale. La Roma insegna. Qualche volta avrebbe sfortuna, perché a Rotterdam è il palo dei Bagnans e contro la geometria. Stanno a riscrivere le regole. Pellegrini che prende il palo rigore. Però in questo, poi va bene, parleremo immagino della finale, perché è la cosa più importante. Sì, sì, sì. Il prossimo blocco. Degli internazionali d'Italia? No. Se vuoi, però vorrei evitare, vorrei disintossicarmi un po' Piero, perché non ci ha fatto. Quei 10 giorni. No, pure domani devo partire pure per Milano. Io delle volte metto Super Tennis ai due a te rotte. Il bello è che sto in diretta. Esatto. Poi nella redazione di Super Tennis confermi c'è tanta Roma. Tanta Roma. Guarda, non ci sono molti romanisti. Non ci sono laziali e questa è già una notizia. Non è neanche così raro. Scusa Lorenzo, perché poi mi dimentico di agganciarmi a una cosa che hai detto. Intanto vi volevo ricordare un altro dato. Quattro punti su 18 nelle ultime sei partite. Perché poi nel momento in cui l'Europa League è entrata nel vivo, la Roma ha veramente staccato la spina. Ed è una costante negli ultimi tre anni. Quattro punti su 18 è veramente un bottino. L'anno scorso tu pareggi con Bologna e Venezia, le ultime due in casa. Quindi è molto in fotocopia. Speriamo che sia fotocopia prima di tutto. Però lui ha detto una cosa. La Roma non ha la rosa. Ragazzi, allora qualcuno ha sbagliato di grosso. Infatti era un tema che volevo affrontare. Non avere la rosa per fare due comprensioni, neanche tre, per una società che ha una proprietà che sta investendo tanti soldi. Le cose sono due. O li hai comprati male, i giocatori, li hai spesi male questi soldi. Oppure si possono allenare meglio, poi ci possiamo dividere all'infinito. Cioè, Ebram è questo giocatore perché è così o perché non è messo nelle condizioni di esprimersi meglio. Allora Ale, visto che è un discorso interessante questo, facciamo così. Consiglio del nostro sponsor e poi torniamo a parlarne. Bene. Una colazione, un brunch con gli amici, una pausa pranzo con i colleghi o magari una merenda per studiare prima di un esame, un aperitivo o un cocktail dopo cena. C'è sempre un buon motivo per passare al New Age Caffè. A due passi da Piazza Fiume, in Via Nizza 2325, troverai il posto ideale per qualunque occasione. Il New Age è anche il luogo giusto per feste di laurea e compleanni, ma soprattutto per seguire insieme le partite della Roma. Tutti i giorni, tutte le ore, il New Age Caffè ti aspetta. Eccoci qua, grazie ai nostri amici del New Age. Allora, parlavamo di costruzione della rosa e di rendimento degli acquisti. Qualcuno ha sbagliato, dice Alessandro. Che poi la rosa è quella che ti ha portato in due finali, è la stessa. Ti ha portato in due finali, non ti fa neanche avvicinare ormai alla Champions a te sul campionato. Cioè, qual è la verità? È una rosa per fare solo una competizione? Però sono due competizioni molto diverse tra loro, perché una è una competizione più sul breve, l'altra si sviluppa da settembre a maggio. Ma se Di Bala non segna col Feyenoord, di che parliamo? Eh, ok. Però magari lì avresti compensato con, invece che 4 punti su 18 o 12. Cioè, non si può programmare una Coppa, questo voglio dire. Una Coppa non la puoi mai programmare, perché dipende ogni partita a un certo punto da episodi, da sorteggio, da momento. Poi io, il fatto che ci sia Murigno mi rassicura moltissimo, anche in ottica Budapest. Con qualsiasi altro allenatore io tremerei. Cioè, stasera starei a dire, guarda come va a finire, perdi tutto in una partita. Invece, la presenza di Murigno e il precedente di Rana ci fa stare un pochino più. Io tremerei per un fatto, perché Di Bala che c'ha? Aspetta, non apriamo 70 argomenti, però. Ah, io voglio aprire questo. No, poi parliamo pure di Di Bala, però intanto la depressione sul mercato era bella. Te boicottami. Mi state piacendo, stasera mi vedo reattivi. Io credo che anche la partita di stasera, in qualche maniera, dia ragione a Sandro sulla rosa. Perché basta dire, il primo tempo e il secondo tempo. Il secondo tempo ha messo 3-4 titolari. La squadra comunque ha creato, ha fatto... Beh, l'identità la Roma ce l'ha. Ha fatto due gol. È vero che ne prende un altro, però pure... Stasera ha piaciuto a Roma da Cineteca. Perché è come quello di lì del pelato, come si chiama? La cardirola del Monza. Se ce li prova mille volte. Se fa il crociato, invece di fa il gol. Però quasi la cardirola di fa il gol. Sì, l'eurogole, è vero. Però io credo che il dato che hai prima snorzolato tu sui 4 punti, come erano? Su 18. Su 18? Sia comunque influenzato dalla Coppa. No, lo è, lo è, indubbiamente. Perché io credo che le scelte di Murigny ormai siano giustamente tutte legate a quello che sta accadendo in Coppa. Quindi il pareggio di Bologna, la formazione schierata a Bologna. È figlia della preparazione della partita di Leverkusen e di quello che è stato il cammino che hai fatto in Coppa. E io lo capisco. Arrivati a questo punto lo capisco. Ma perché ti sei messo in certe condizioni prima? Però Ale, secondo me c'è un dato che non stiamo considerando, è che tu da Bergamo alla partita col Milan hai perso due titolari a partita. Hai inciso Parigi. Ma perché li hai persi però? Perché hai giocato ogni tre giorni. La Roma era tezza in quel momento. Sei arrivato al momento clou in cui hai dovuto di nuovo fare una scelta. O mi butto sull'Europa o porto avanti il campionato. Ora è almeno in finale, vediamo come andrà. E tu il campionato lo lasci andare. Cioè contatevi i punti che la Roma ha fatto nelle ultime otto giornate di tre campionati. Guardate che ne esce fuori in dato disastroso. È un trend preoccupante. La Roma è forse che perdeva tutte. C'è tutto tutte. È molto raro che accada il contrario. A meno che non sei l'Inter che ha una rosa molto più massiccia di quella della Roma. Non ricordo altre squadre italiane. Il Milan comunque ha fatto la semifinale di Champions e sta davanti a te. Però è una stagione deludente. Io non mi metterei nei panni di Milano. Il Napoli ha vinto lo scudetto e ha fatto i quarti di Champions. Però ti dico che per me il metro di Paragone non può essere il Milan perché per me a oggi e fino a fine campionato il Milan ha fatto una stagione deludente. Perché la squadra campione d'Italia, mai competitiva per il campionato, perde la Supercoppa malamente. Deludente perché il calcio è di una crudeltà unica. Eh ho capito, il calcio è di una crudeltà unica però è crudele per tutti il calcio. Probabilmente di qualifiche per la Champions. Anche grazie alla penalizzazione della Champions. E fai una semifinale. E fai una semifinale di Champions League. Dire che è deludente. Ma è deludente sempre. Gli anni di Maria Bella e Fassone. Quella erano fallimentare. Con questa equazione anche la stagione della Roma non potrà essere deludente. Perché comunque sta in finale. Esatto. C'è quello. Il peso specifico di quella finale è enorme. Anche se, capito, cambia. Il mio giallo rosso o nero c'è che ci sarebbe un'ingiustizia poi. Perché guarderemmo tutti solo a questo lato che sto sottolineando oggi. La finale l'hai comunque conquistata. Ed è la prima finale storica della Roma da quando si chiama Europa League. È la seconda in assoluto di una squadra italiana da quando si chiama Europa League. È lì che c'è... Però lì, secondo me, in scena è un'altra questione. Ce la vinci, ragazzi. Ma chi ci sta a badare? Ma no, è chiaro. Ma ci mancherebbe altro. Sono tutti discorsi che io mi auguro non faremo. Però io voglio pensare che anche se la perdi, e Dio non voglia che la perdiamo, abbiamo delle garanzie all'interno del club. Nel senso che io non voglio pensare che i Fritkin non rilancino. Nel caso in cui non perdi. Quindi è una situazione ben diversa da quella... di Mourinho. No, ma... Ok. A prescindere da Mourinho, io non voglio... Però non è che finisce la Roma se parla di Mourinho. Ce la vincerebbe. Esatto. Io adesso te la butto lì. No, però ragazzi, parliamoci chiaro. Se Mourinho resta o non resta, cambia tutto. Cambia tanto. Cambia tutto. Io sono convinto che Mourinho resta se... Nella percezione. Nella metabolizzazione. Questo signore prima o poi non allenerà più la Roma. Mourinho in due anni è riuscito a diventare un riferimento al pari di Francesco Totti. Ci sta. Ecco sì. Codumeme. Eh no. A pari di Totti no. Eh no. Bel tempo. Vi tiro fuori da un dibattito spinoso con i meme di stasera chiaramente molto severi da parte di molti tifosi. Allora partiamo con l'ironia di Alessandro Valerioti il quale segnala la forma straordinaria dei due attaccanti attuali. Io inizio campionato, finalmente abbiamo due attaccanti forti e Brano e Belotti tutto il campionato. Due cagnolini, insomma, un po' mosciati, un po' sovrappeso. Noi avremmo voluto più du luvacchiotti, du bestie. Eh ma questo è... Attenzione perché torniamo nel cinema, nel mondo Marvel e allora si parla di futuro, un futuro assurdo, quasi imprevedibile ed ecco Iron Man che dice al suo collega Avengers Dr. Strange, ho guardato avanti nel tempo, ho visto 14 milioni di futuri. In quanti bove difensore centrale? Uno risponde. E di fatti oggi abbiamo visto anche questo, in un momento di clamorosa emergenza. Citiamo la grande bellezza per fare un omaggio al Gallo Belotti. Questa è la citazione del suo film. Io non volevo solo non sfruttare le occasioni da gol, volevo avere il potere di farle fallire. Sior Gallo, mannaggia, che stagionaccia, che brutto campionato. E allora andiamo con Skeletor, il quale torna con i suoi dati, ma attenzione che qualcuno inizia a mal sopportarlo. Belotti in carriera ha segnato più gol contro la Roma che a favore e poi c'è un porca miseria che noi accogliamo. Ma attenzione perché avevamo detto un po' di mal sopportazione, infatti regà, Skeletor ha trovato un'altra coincidenza, visto non gliene frega un cacchio a nessuno. Questo finalmente è l'epilogo di una wave. Sto giolone ieri. Eh, Jurassic Park. Jurassic Park. Traditore di Jurassic Park. Non c'era scritto cacchio. Non c'era scritto, sì, cacchio. Edulcoriamo, faccia protetta. Fares, maledizione. Non ho già fatto il tutto per sembrare dare una parvenza di educazione. La reazione di Belotti al 97esimo quando ha compreso che i rossi eravamo noi. Si è disperato il Gallo. Mannaggia, mannaggia. Per citare lo straordinario Guido Meda, ma attenzione perché abbiamo anche dei video. Che ne dica Piero Torri. Torna Dragon Ball nel destino della nostra trasmissione. Allora vediamo Dybala nei panni di Goku che tenta di rianimarsi. Mi prego amici, dovete resistere. Fra poco mi sarò ripreso. Aspettatemi. In realtà Dybala, anzi Goku, riesce a sconfiggere Freezer. Speriamo che Dybala possa sconfiggere in finale il nostro avversario, che purtroppo è Ersiglia del Pelato. Attenzione perché ho un altro video, perché a proposito di finale voglio lasciarvi con un po' di carica. E allora questi siamo noi quando ci avviciniamo alla finale, quando vediamo anche le altre di finali, le altre finaliste. Video. 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 Carichi, carichi verso Budapest, carichi sempre con Al Circo Massimo. Lì a te Gabriele. Grazie, grazie mille Cotu. Straordinari meme come al solito. Qual era l'ultimo discorso? Ci siamo persi. Mi sono perso io perché i meme m'hanno distratto. No, l'ho sparata forse troppo grossa. Ah, Murigno come Totti. Piero dice no. Dico no pure io. Lorenzo? E' chiaro che non sono paragonabili, però quello che comporta Murigno nel legame che ha creato con i tifosi della Roma ha una forza e un'intensità che secondo noi si può paragonare solo a quella di Totti diciamo così pausa pubblicità, torniamo tra pochissimo Eccoci di nuovo in onda abbiamo chiuso con l'argomento Totti-Murigno lo vogliamo finire di spiegare Alessandro o l'abbiamo chiuso qua? No, io credo che sia condivisibile quello che dice Sandro poi chiaramente se tu mi dici fa una scala, Totti sta davanti e Murigno sotto per quanto mi riguarda anche sotto qualcun altro Però ti faccio una provocazione Piero se il 31 va come deve andare Murigno non diventa il miglior allenatore della storia della Roma secondo te? Almeno sul piano dei risultati? C'è dubbio Ragazzi lo Scudetto ha una valenza importante 38 partite tra l'altro non so quello dell'83 fu vinto contro una Juventus Nessuna dei due fu 38 partite quelli vinti dalla Roma? Era quello vai adesso sono 38 partite sì è vero anzi quello di no 34 erano 34 quello di Capello nel 2001 16 squadre forse addirittura era 30 partite era 30 partite lo Scudetto ha una valenza secondo me più complessiva del lavoro fatto con una squadra poi per carità se mi vinci due coppe in due anni stai sul podio sicuramente per quanto mi riguarda sarà forse anche una questione d'età e di ricordi per me la Roma dell'Itom è irraggiungibile però ripeto è una cosa se volete più affettiva forse più romantica i risultati siano stati importantissimi decisamente però però farebbe un'impresa straordinaria due coppe in due anni per me supera lo Scudetto no io ho Scudetto io considero l'Europa League molto simile come valore a uno Scudetto se sei la Roma soprattutto sì certo vincere l'Europa League l'anno dopo la Conference League per me sarebbe l'exploit più alto sportivo della Roma secondo me la doppietta sono d'accordo con Alessandro per una serie di motivi poi primo l'Europa League all'inizio della stagione quest'anno mi ricordo tutti a dire quando avevamo appena vinto la Conference sarà un'Europa League particolarmente complicata rispetto a quella che abbiamo appena vissuto perché c'erano il Barcellona il Manchester United poi la Roma Barcellona e Manchester United lo United l'ha fatta dall'inizio e il Barcellona retrocesso poi dopo Siviglia Juventus e Bayer Leverkusen sono retrocesso la Roma è l'unica superstita del tab c'era l'Arsenal ai nastri che poteva essere l'Europa League dello scorso anno che vide impegnata l'Atalanta se non ricordo male che poi persa no l'anno scorso non ha fatto coppia l'Atalanta no l'anno scorso fu eliminata l'Ipsia l'Atalanta eliminata l'Everkusen è persa con l'Ipsia ma quella Europa League erano un po' tutti quando la consideravano l'Europa League addirittura più debole nei nomi delle squadre finaliste rispetto alla conference è vero ha ragione Lorenzo seconda cosa se vinci l'Europa League la vinci contro una squadra che non sarà il Siviglia di qualche anno fa ma che ne ha vinte sei su sei su sei una Coppa UEFA se non sbaglio due due Coppa UEFA e quattro Europa League sì e ha vinto anche una Supercoppa Europea sì contro il Barcellona se non sbaglio mi pare contro il Barcellona di Rijkaard è il signore il signore quindi capisci bene che se la Roma vince l'Europa League quest'anno ragazzi è un'impresa detto che siamo felicissimi e ci ricorderemo per sempre come un momento fantastico Piero si ricorda bene anche un altro scudetto uno non so può ricordare neanche lui dei tre vinti e ogni epoca ha i suoi trionfi le sue storie è difficile paragonare l'importanza quando parli di 70-80 anni dopo però secondo me nella storia della Roma vedere una conferenza che dice un'Europa League è una roba impagabile totale ragazzi questa tra l'altro è un'Europa League che vale 50 milioni 50-60 milioni più di più c'è la Supercoppa europea ribadisco c'è l'incasso garantito del prossimo anno sì io poi sarei curioso una cosa che di questa società mi piace poco poi per carità è che non ci comunicano l'incasso al botteghino tu dici ma che sei suonato a me piacerebbe sapere quest'anno la Roma quanto ha incassato al botteghino la Roma ha fatto tutti c'è un motivo tecnico e quale sarebbe perché tu volendo puoi cedere il tuo abbonamento alla Roma per una partita che poi lo rimette rimette in vendita quel biglietto come viene fatto da anni in Inghilterra esatto quindi è difficile dire quanto hai effettivamente incassato ah in circa non è che me devi dire al centesimo però c'è questa novità da un paio di anni mi sembra non so se da quest'anno o dall'anno scorso che funziona credo dall'anno scorso però c'è un limite a questa cosa non lo so dall'anno scorso tu puoi rimettere in vendita al tuo posto ma alla Roma si prende una parte di quei soldi e ti garantisce a te diciamo di recuperare quello che hai speso il tuo rateo quindi l'incasso non è facile da individuare esatto l'incasso degli abbonamenti quando tu hai fatto i 37 mila abbonamenti quello non è stato comunicato però comunque quello poi si troverà nel bilancio non è che il bilancio da Roma non viene più pubblicato eh lo so un anno dopo non deve essere più un anno dopo in realtà ci sono dei tempi legati all'assemblea i bilanci di tutte le società sono pubblici compreso quello della Roma uno deve andare in camera di commercio prenderselo e leggerselo si non riesco a capire perché vabbè comunque mi pare un problema narrativo pensiamo a vabbè il discorso che facevi prima a Firenze chi gioca aspetta ne parliamo al terzo blocco di Fiorentina-Roma perché tu dicevi l'ha vinta l'Eintracht-Francoforte l'anno scorso beh certamente non è una squadra che c'ha un parmare europeo straordinario no sicuramente vale più a Roma dell'Eintracht-Francoforte a livello internazionale però non è una coppa con tutta la simpatia se ne siete mai stati a Francoforte no sul meno no tra l'altro è una città molto industriale piena di locali un po' ose ah sì ammazza che sta scherzando c'è che scherzi dentro vedo vostri riflessivo riflettente no beh comunque l'anno scorso l'Eintracht vinceva la Coppa proprio per quello che magari stavo in finale con i Rangers con i Rangers hai eliminato il Barcellona l'Eintracht sì ma queste sono le cose però per carità comunque negli ultimi 15 anni se guardi chi ha vinto l'Europa League Chelsea Manchester United Siviglia Siviglia quasi quasi sempre Chelsea due volte l'Atletico Madrid due volte l'Albodoro di tutto rispetto l'eccezione è l'Eintracht aggiungo anche un'altra cosa Siviglia Real pure l'anno prima però il finale è una buona squadra 40 rigori non so se ti ricordi la finale l'abbiamo vista pure insieme ma l'abbia è del Viglia Real vero? sì di ancora di proprietà? sì credo che sia ancora di proprietà credo che sia preso con un diritto di riscatto a 13 milioni io posso investirei subito assolutamente spenderei qui 13 ne vale già Frimpongo lo prendereste? Frimpongo lo prendereste? sì anche se c'ha sta faccetta che non mi dà un senso di essere in aquila però però è un giocatore fisicamente di velocità di gamba è un giocatore splendido forse troppo secondo me sì qualche volta è troppo e qualche volta secondo me capisce poco le situazioni della partita che è un difetto grave per me per il calciatore sbagliamo però a valutarlo solo dalle due partite contro Roma a Roma un esterno difensivo deve prendere sul mercato la Roma dovrò operare pure parecchio st'estate mi pare che abbia iniziato abbastanza bene se sono vere le voci che girano mi sembra abbastanza intelligente Sandro ci lo confermi non lo confermo io insomma è abbastanza di dominio è abbastanza di dominio pubblico ha fatto le visite mediche al campus per conto della Roma questo è certo beh soprattutto quello che mi convince è che la Roma non lo smentisce anzi lo conferma per confermare mi sembra difficile fare le visite mediche a un ragazzo però pure Schick fece con la Juventus è capitato qualche volta però sembra quasi fatto ho visto che uscì il nome di Dileman è il mio pupillo come sapete Schick fece le visite con la Juve per averci fu il problema cardiaco che convinse la Juventus a rinunciare dissero quella fu la versione raccontata no è vero sì sì poi sono girate altre voci poi la Juve provò a prenderlo assolutamente falso togliendosi dei soldi cioè scontando dei soldi la Sampdoria non c'era stata e la Roma riuscì a inserirsi forse era mai che non si inseriva per comandata però no comunque dicevo sul Siviglia poi tra l'altro in tutto questo ad ampliare ulteriormente la Coturia che già si è massima se si riuscisse a vincere il 3-1 ricordiamoci che la Roma non sarà la prima squadra italiana ad affrontare il Siviglia in una finale di Europa League perché lo fece l'Inter nel 2020 con un autogol di Lukaku con Siviglia ci fece fuori a noi autogol di Lukaku e finì 3-2 a bolla ricordate se giurava sì sì partite secche e quindi riuscire a vincere una finale del genere l'Inter incontrò l'Everkusen ai quarti se non sbaglio o in semifinale lo Schatta sembra lo Schatta pure no? lo Schatta non mi ricordo l'ordine sì però l'Everkusen questo precedente non ci fa ben sperare però sarebbe interessante iniziare anche secondo me sarebbe interessante iniziare a valutare questa partita col Siviglia perché per capire se questo Siviglia questo Siviglia non il Siviglia in generale può avere le caratteristiche giuste per la Roma di Murigno perché anche il Siviglia a proposito del dato che dicevo prima zero gol in trasferta nelle partite di eliminazione dirette il Siviglia hanno assegnati due uno alla Juve al Manchester United e hanno perso in casa del Fenerbace e del PS Vendoven anche in maniera abbastanza netta quindi come la Roma anche il Siviglia si dimostra una squadra molto casalinga che ha costruito la sua qualificazione in casa come la Roma che le ha vinte tutte quindi durerà in eterno la finale per me il Siviglia ha qualcosa di questa Roma sono due squadre diverse ma vedo dei punti in comune tanto carattere io lo voglio confortare vedo due squadre di carattere vedo Matic da una parte Rakitic e Fernando dall'altra che ha fatto male Torres vedo la Mela Papu Gomez Argentina e di qua Di Bala sperando che giochi è una squadra vecchia di brevi linei io invece voglio confortare io vedo delle analogie non solo di brevi linei perché è una squadra anche tosta vedi analogie con il Leverkusen si da parte del Siviglia il Bayern Leverkusen ha molte mezze punte di qualità di Abbi Adli Virs e in Siviglia c'ha quelli Ocampos Lamela Papu Gomez si ma c'ha pure il centravante e c'ha Elnesiri 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 due semifinalisti mondiali C'ha Rakitic e Fernando che non sono centrocampisti del Bayern Leverkusen sono un altro livello sono in là con gli anni ma sono due signori centrocampisti però pure che va contata dietro secondo me loro scendono delle qualità come il Bayern Leverkusen hanno un buon portiere si portiere secondo me uno portiere e centravanti del Marocco esatto due semifinalisti mondiali è un campione del mondo secondo me è la migliore squadra che la Roma affronta in finale stavolta c'è la squadra più forte però va considerata pure la squadra del Siviglia che è stata tutto è una partita equilibrata una partita equilibrata dove non ti basta secondo me difenderti nel senso che il Siviglia è una squadra che dai e dai se concedi lo può trovare un barco perché c'ha tanta qualità oltre che carattere e non è una squadra che si farà intimorire dalla Roma secondo me quindi è una partita da giocare in un certo momento poi certamente è più abituata tutto il carrozzone Siviglia è più abituato a affrontare però dietro balla una finale dietro balla dietro sì secondo me poi si è squalificato Acugna 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 sì era antennista una volta Acugna no? c'era forse ci sarà anche stato ma sai quanti argentini schienoli pallettari avevano questi cognomi molto simili il fatto che però siano più abituati secondo me potrebbe essere invece un vantaggio per la Roma che loro secondo me arrivano un po' con la spocchia di questa roba nostra la leggo così spero che sia così e poi comunque ripeto 47 punti ha fatto il Siviglia in campionato decimo è stato terzo ultimo dopo una prima parte della stagione ha tanti problemi pessimo hanno subito 49 gol cadrà una delle due certezze Siviglia vince sempre l'Europa League Mourinho vince sempre le finali una delle due non sarà più vera a parte le supercoppe però le supercoppe però non sono finali sono partite secche che puoi perdere tra l'altro Mourinho non ha mai vinto la supercoppa europea quindi eh a proposito e Haaland sta preoccupato perché Haaland magari Lautaro perché non Gagliardini Gagliardini bene ieri adesso perché il calcio è veramente un sport per fatta fare brutta figura è un sport maledetto che ha fatto il patto col diavolo nel momento quando hanno messo il polo ma se il calcio fosse matematica non è una partita da una meretta in teoria beh se fai 20 minuti comunque stavo pensando nel pacchetto di cose che ci sono dentro Budapest c'è pure il mondiale per club già in questo se ci fosse oggi la Roma lo giocherebbe comunque perché ha il ranking necessario per fare che dovrebbe essere più amore il mondiale per club mi ricordo poche volte è una partita che ti assegna così tanto no certo forse è la partita che ti assegna di più nella storia della Roma nel 2025 25 gravi per due anni vabbè un anno e mezzo se siamo quasi stupati di vincere ci andranno le quattro vincitrici della Champions dell'ultima le ultime due e le prossime due e poi ci sono dei posti per l'Europa assegnati dal ranking in caso fosse due volte la stessa squadra peschi dal ranking aiutatemi con la vostra in memoria Mourinho ce l'ha fatta a due finali consecutive col Porto 2003-2004 2003 in Coppa UEFA 2004 ha vinto tutte e due col Porto sì sì Alan sta preoccupatissimo Di Bala ci sarà non ci sarà Mourinho ha appena parlato appena parlato insomma qualche mezz'ora fa ha detto che è molto pessimista la non panchina di stasera al di là insomma delle frasi e circostanze che vengono fatte filtrare dall'ufficio stampa giustamente perché magari si tenta però la non panchina di stasera secondo me è la preoccupazione di Mourinho ragazzi cioè io non ci credo più perché quello che ci hanno raccontato ma che lo fa giocare a Firenze a quattro giorni no a Firenze lo fa giocare allora Budapest per me mezz'ora a Firenze la fa non lo so non credo che possa andare in campo a Budapest senza una partita giocata dal primo minuto da quanto? da Roma-Atalanta no con l'Atalanta è entrato allora la partita prima io ho entrato in campo da Roma-Inter no è entrato l'idea se è successo qualche altra cosa perché non è possibile che dopo non l'abbiamo più visto il problema è più la capiglia che l'adduttore ringraziamo Palomino ieri le notizie erano che avrebbe giocato certamente addirittura dall'inizio si diceva titolare comunque un pezzo di partita la tribuna di oggi francamente però quello che dice Lorenzo non è sbagliato cioè non crede più a niente no non ci credo perché la Roma effettivamente ci ha comunicato tramite Murigno delle cose strane allora Lorenzo era morto insha la vuoi pure Wijnaldum quasi Smalling Smalling ah chissà forse forse in finale Wijnaldum bene non sta bene non sta ho capito sì certo allora un conto è dire stanno al 100% ma io di Bala pure al 30% a Budapest ce lo metto perché la giocata te la fa io non capisco allora se è Muligno che può far filtrare determinate cose e quindi e tutti noi nello sconforto poi vediamo il giocatore in campo e gridiamo al miracolo oppure se in realtà un po' è un po' come dice è vero che è una situazione delicata e dall'altro lato Murigno un po' ci gioca allora Llorente che c'aveva? non era rotto era una lesione no ragazzi era rotto allora non è vera neanche la narrativa secondo cui i giocatori io pensavo essere strappato scusa Murigno ci ha detto che lo rivediamo è stato fuori 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 aveva detto sono passati 33 giorni dall'infurto perché era il 20 aprile ragazzi non sono pochi non sono pochi però un giocatore che dice ha finito la stagione non solo ma perché Murigno considerava magari quei 10 giorni in più che era finito la stagione ma se non ricordo male era stato pessimista ma è stato fuori a lungo Llorente sì sì per carità quando il Sharawi si fa male a Monza e il Sharawi scrive un post su Instagram in cui sostanzialmente si chiama fuori fino alla fine della stagione lui li temeva che invece però non ha ancora fatto gli esami poi dagli esami si era capito che aveva delle chance comunque non ci credo secondo me c'è da fare un'altra considerazione sulla vicenda di Bala il fatto che non giochi una partita da settimane e settimane è quale partita migliore di quella di stasera perché non può tornare in campo così improvvisamente se oggi avesse messo un'ora di partita nelle gambe gli avrebbe fatto solamente bene come hanno fatto Smalling come ha fatto Smalling come ha fatto il Sharawi come ha fatto di ispanico cioè tu che fai a Firenze dici vabbè meglio non gioca forse lo manda in campo gli ultimi 20 minuti non lo so e poi lo manda in campo a Buda per stare al primo minuto per me a Buda per stare al primo minuto Di Bala oggi ti dico che non gioca però Di Bala io non voglio credere la finale di Europa League Di Bala non gioca non ci posso credere sarebbe dipende come sta se può giocare gioca anche perché è l'ultima partita della stagione ricordiamoci Mighi Tarion l'anno scorso però era muscolare quello non era la caviglia muscolare hai fatto di tutto per averlo proprio nell'ultima partita o forse ci raccontano che la caviglia invece è muscolare perché io sto dubbio ce l'ho no sicuramente però se è muscolare che senso c'è mandarlo in campo 15 minuti con le percuse e lì ha risentito dolore hanno detto lasciamo verde possibile però che non sta bene secondo me è ufficiale ormai te dicono quanto stia male resta un po' un mistero per me c'è molto di voler togliere un punto di riferimento al Siviglia perché il Siviglia nella tua stessa condizione il campionato è finito sembra che mancano tre partite tre giornate mancano tre giornate tre giornate loro decimi al massimo passato il derby per loro ormai il campionato prima della finale c'hanno il Real Madrid che però direi che sta in Braghe ha perso pure ieri insomma il derby è stata una partita io l'ho vista non tutta però è stata una partita intensa il derby di Siviglia è stata una partita vera dove ci sono stati i falli bruttissimi un espulso del Betis tanto aiutatemi voi che avete più memoria di me su questo una delle prime volte che la Roma affronta nella stessa competizione due squadre nella stessa città bisogna vedere che non ricordo gli inglesi gli inglesi gli inglesi Chelsea e Arsenal però sai che c'è io l'onda faccio fatica perché sono talmente tante che il calcolo delle probabilità è molto più ampio cioè tu potresti fare veramente un intero torneo la Roma di Mosca potrebbe essere nella stessa stagione però nella stagione 2008-2009 la Roma sconfisse anche il Chelsea nel girone e poi fu eliminata dall'Arzio sì quella a quella mi riferivo 3-0 sarebbe una stagione grande partita da te molto da me infatti la devo approfondire mi è venuta in mente mi è venuta in mente adesso perché non ricordo altri a parte che tante Coppe Italia in cui ha affrontato Milan e Inter eh sì c'è stata quella vinta da Spalletti 2-1 poi alla prima finale no era scusami l'ultima finale andata e ritorno a Roma fa semifinale col Milan e finale con con l'Inter però sai un torneo breve ma che ci frega Sanpegiano non lo so vabbè scusate infatti era la mia riflessione andiamo da Cotumaccio va che è meglio chiudiamo questo imbarazzante momento andando dal mio amico Riccardo Cotumaccio che invito ad avvicinarsi alla sua postazione grazie Cotum buonasera a tutti come va del resto ormai siamo nelle vostre case ci conoscete come se fossimo di famiglia sì non serve di fatto questa sigla dai dopo tre anni ormai anche rotto potremmo farne una nuova per i quiz perché questo è il momento quiz dai mi dispiace dai dai la settimana scorsa mi avete aspettato vado a stemperare e quindi parto con la prima domanda di stasera come di consueto parto qua dalla mia testa ad Alessandro Austini ad Alessandro chiedo qual è il calciatore della rosa attuale della Roma con più presenze con la maglia giallorossa in assoluto vado a darti le quattro opzioni l'opzione A in assoluto sì Cristante l'opzione B è Mancini l'opzione E è El Sharawi l'opzione X è Pellegrini pensando alla militanza mi verrebbe da dire Sharawi no però ho detto mi verrebbe quindi non l'ho detto non vale questa io chiamo notaio non l'ho detto va annullata e allora direi Pellegrini beh c'è una sorta di assist implicito di Piero Torri ma la do per buona perché Lorenzo Pellegrini è il giocatore romanista con più presenza l'attivo in rosa quindi bravo Alessandro risposta esatta Alessandro incredibilmente in testa con Barra che dovrà con Barra con Barro con Barro Piero Torriano in qualche modo la domanda per Fares tra prestiti e acquisti quante sono state le operazioni in entrata di Monci alla Roma questo è possibile vabbè ragazzi ma qui c'ho culo scusate mi dissocio no no non l'hai fatto bene a dirlo l'ho detto proprio allora l'opzione A 21 ci vuoi arrivare l'opzione B è 18 l'opzione E è 23 l'opzione X è 15 le operazioni in entrata di Ramon Verdeco S no siccome ho detto culo faccio l'opzione E che è bruto del culo 23 però attenzione l'opzione E va detta imitando Piero Torri eh 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 ce l'ha eh ce l'ha ce l'ha posto fine un'altra carriera sì 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 grande professionista ormai la decima che chiudo più o meno da quando sono in questo ambiente no la risposta esatta è la A carissimo Fares ma no di poco 21 21 vado al nostro faro Piero Torri Piero presta attenzione a questa domanda mi raccomando eh ci siamo quali competizioni europee ha giocato Eric Lamela con la maglia della Roma opzione A Europa League opzione B entrambe l'opzione E Champions l'opzione X è nessuna questa è infame questa però è una domanda infame molto infame molto infame ma ah già che si intende rispondo X nessuna e Piero come del resto il sottoscritto avrebbe fatto ha indovinato la sua prima risposta che primo anno a Roma però fece i preliminari di Europa League però fece i preliminari di Europa League però la mela non giocò non giocò no infatti è sordi a ottobre è vero sono molto deluso dal fatto di aver fatto un punto però Piero tutto apertissimo come vedi non è che insomma ci sia questo grande gatto quindi puoi ancora recuperare l'ultima domanda è per il nostro confliele Gabriele Conflitti allora prima di abbandonare il calcio in che ruolo giocava la Flavio Cobolli nella Roma primavera ma questa la doveva fare a me non avete fatto la domanda più difficile no io sono trequartista l'opzione A l'opzione B è portiere l'opzione E è terzino l'opzione X è attaccante non la so non la so mi consegno mi consegno all'udibrio del pubblico e dico trequartista dai che dice Piero invece? io dico terzino e Piero ha detto Iaso e infatti la sa bravo Piero terzino quindi il buon Gabriele ero indeciso ero indeciso tra le due resta uno quindi questo round vede trionfare manco Pairetto farebbe a me sempre domande incredibili questo round dovete trionfare lo accetto la prende sempre bene il nostro Alessandro Austini però Piero Piero torna incredibilmente in corsa guardatelo lì giù prima c'era eh ora c'è stacco un eh eh in qualche modo chissà cosa significherà grazie linea a voi bene bene non ci dobbiamo fermare? le prossime puntate non ci dobbiamo fermare eh sta cosa pure le prossime puntate certo fino alla fine anche perché siamo tutti tutti in parità giusto? no Alessandro è primo sono scattato a due ma quando hai indovinato te? la prima puntata e perché stai a due? quando hai rindovinato? ah stasera ah stasera già scopriare che confusione che condizioni si trova? io protesto veventemente e infatti mando la pubblicità tra poco però se mi dai quello su immobile quello sul solbacche è rigore e fustigazione tesosa eh eh non scherzare anzi rigore o tiri o sbagli te lo faccio di via eh andiamo o no? eh eh però vabbè si capisco il discorso per carità però anche se c'era il 62-63 secondo me la Roma 7-8 di più oppure 10 io a qualche punto l'anno scorso la Roma l'ha fatto i 63 c'è il rischio che quest'anno ne faccia non li faccia 61-62 no poi il dato dei 7 milioni veramente non ha senso secondo me è un dato troppo parziale cioè tu dovresti vedere quanto costa la rosa della Roma non quanto spende di cartellini in una sessione di mercato dove vi ricordo che non poteva fare altrimenti non è che la Roma ha speso 7 milioni e si è tenuta in tasca quei 100 che poteva spendere e non ha speso cioè anche questo no? non è però è Murigno però è esatto è Murigno è così fa parte di una strategia capisco l'invito di Lorenzo la serenità non è un allenatore che ti porta serenità sarà che non siamo abituati alle finale europee però io onestamente adesso arrivare a Budapest con la storia di Murigno resta a parte però io se devo dire una cosa Lorenzo guarda quanto ti distrai tra virgolette dalla finale quanto scarica pressione basta che non si distra con i giocatori purtroppo e io però credo che lui su questo sia ancora veramente il numero uno tra l'altro ragazzi in Napoli due giorni dopo ha vittorato Scudetto se ha capito Spalletti se ne va il calcio è così e loro hanno vinto non sta a guardare sentimenti tranquillità uno potrebbe dire ma fammi festeggiare lo Scudetto non gli hanno ancora dato il trofeo dello Scudetto a Napoli già se ne ha dato Spalletti e questo è il contrario insomma il contro di quando vinci troppo prima e comunque non siete mai stati sulla Croisette no Piero io non sono mai stato durante il festival mi rifate l'occhi vabbè andremo quello che volevo dire Alessandro il discorso che fai tu su Napoli e Lazio è vero però c'è da considerare secondo me la tesi della difesa sarebbe in un campionato in cui la Juve vive l'annus horribilis e le milanesi pure non è che te partecipi ad un altro però no è vero è vero certo assolutamente una cosa chiedo ma la Roma un anno in campionato l'Europa lo sta facendo ma potrà fare più anche dell'aspettativa non è che è vietato la Roma per fare 80 e passapunti ci deve avere la rosa perfetta le altre una volta l'Atalanta una volta il Napoli anche un paio di volte il Napoli un paio di volte purtroppo la Lazio tra un rigore una cosa ma comunque sono andati in Champions due anni negli ultimi cioè nei cinque campionati che la Roma non riesce ad arrivare le prime quattro ci stanno due Champions dalla Lazio e vogliamo dire che la Lazio ha una rosa migliore di quella della Roma da tre anni però attenzione però la Roma sta in finale d'Europa e quindi non c'è la controprova nel senso dipende da come la guardi però il divario è molto discutibile tutto certo non c'è una ragione però il divario in classifica fra Lazio e Roma o tra le altre la Roma si è ulteriormente allargato proprio in concomitanza dell'uscita della Lazio dall'Europa e della permanenza della Roma e l'anno scorso se non c'è il gol di La Spezia la Roma arriva sopra ma l'anno scorso la Roma a differenza irregolare il gol di La Spezia chiaramente irregolare assolutamente però quest'anno la Roma io ricordo fino a un mese fa io le cose te riconosco quelle vere poi tu mi parli di due rigori a Bologna allora Piero no però la Roma fino a che sono due rigori a Bologna la Roma fino a neanche quello che vedo ragazzi cioè ma che ricordo termina nel borro ci sono errori non c'è dubbio no guardiamo le cose reali io te seguo io quest'anno io ho vissuto stagioni di decisioni arbitrali nei confronti della Roma decisamente più punitive di questo però dico che in questa parte finale della stagione la Roma è stata penalizzata con Mila con Bologna e io ti aggiungo pure stasera perché ricordo su Guarnardum secondo me all'Allianz Stadium se devono vincere la partita io votando però Piero che dicevi se eri un tifoso del Verona voglio essere tifoso del Verona Davidoviz o un tifoso del Lecce che poi a ritorno ha un vantaggio che non viene espulso strepezza vatti a ripetere come fa è una stagione nel complesso che io vorrei sempre secondo me comunque la Roma sta a corsegno meno con le decisioni arbitrali e non a corsegno e qualcuno invece sta a corsegno più sicuramente la Roma non ha rubato niente come non ha mai rubato nella sua storia però la pagnolata Piero un po' troppo frattamente la pagnolata gli altri anni dovranno mandare chi mitra la pagnolata la pagnolata tra l'altro c'è da dire che stasera la pagnolata uno striscione che ricordava Roberto Rulli con una motivazione posso dirti francamente più che risibile più che risibile perché era un pregio allora la tribuna dovrebbe essere vota diteglielo capito vota vota sono d'accordo con Piero d'accordo con Piero una cosa abbastanza brutta che tra l'altro rovina pure un'atmosfera che è sempre stata bella quest'anno al di là della pagnolata che poi vabbè alla fine è più folklore che altro vai Lorenzo no io una cosa vorrei aggiungere io un mese fa sono venuto qui era aprile c'eravamo visti alla Dispoli ti ricordi? sì sì è vero Roma Odinese la Roma vince quella partita la Roma era terza a differenza dell'anno scorso l'anno scorso la Roma non si è mai neanche minimamente avvicinata alla zona Champions in una fase matura della stagione quest'anno la Roma era terza ad aprile poi il crollo quello che dicevi tu Milano Bologna Milano Bologna da gol di Salma Gers ah davanti avevamo perso esatto praticamente da Bergamo avevamo perso no dico il crollo il crollo insisto sarò ripetitivo la Roma fino a quel momento però dimostrava di essere una squadra ma io sono un po' mi troverrebbe più punti se fosse stata eliminata guarda caso se la Roma non so se sarebbe restata capace di andare in Champions ma sarebbe giocata di più sicuramente quindi il problema il problema chiamiamolo così è quello quindi il fatto che è un dato di fatto è una rosa tu dici che è attrezzata per poter far bene su due competizioni ma evidentemente i fatti ci stanno poi un'altra domanda che avrei è più difficile secondo voi arrivare tra le prime quattro in questo campionato dove la Juve praticamente non c'è eppure i milanesi o arrivare in finale di Europa League non diciamo vincere non lo so eh cioè da una parte la stessa squadra fa un'impresa forse più complicata sì nel senso per me non è un miracolo che la Roma sia in finale d'Europa League un miracolo parlo della parola miracolo è una grandissima impresa secondo me una grandissima impresa no so mettiamola così secondo me forse è più difficile arrivare però è più difficile arrivare quarti comunque qua sì vuol dire quinti eh sì perché comunque c'è la considerazione che secondo me a Roma i 68 punti da Lazio vi vale sì quello sicuramente però c'è il discorso e magari l'avrebbe fatti senza Europa League allora facciamo ma non perché è a Lazio io credo che i 68 punti da Lazio che stasera garantiscono la Champions League a Lazio io credo che a Roma ci potrebbe avere ma adesso al di là delle mie puzze arbitrali però telepromozione e poi ultimi minuti insieme non banco ancora le parole di Murigno in conferenza non sono banali non sono le prime come sempre devo dire che quest'anno banali mai infatti allora Murigno quando la Roma non vince è il momento in cui lo devi ascoltare giornalisticamente e quindi poi nei dibattiti che scatena ci sono quasi due persone diverse dopo i risultati positivi e dopo quelli negativi ha molta emotività cioè nonostante le esperienze 60 anni non so quanti nel calcio i trofei 26 trofei vinti è uno che speriamo quella mezz'ora dopo la partita quella mezz'ora dopo la partita la vive veramente con un grande nervosismo va molto a ruota libera secondo me è entrato pure in una fase della vita della carriera in cui francamente gli interessa anche lui ripete spesso da quando è qui a Roma che sono vecchietto ho 60 anni credo che comunque sia entrato giustamente in una fase di carriera che è calante rispetto ai 20 anni che ha avuto come per tutti anche Guardiola il direttore della sportiva della Roma che poi non è general manager c'è mai stato un allenatore che ha vinto Conference League Europa League Champions League non è possibile la conferenza la risposta è giusta e pensa Maurizio ha vinto pure la Coppa di Coppe da secondo di se avesse vinto il Feyenoord e non ha vinto purtroppo sarebbe stata l'unica squadra che ha vinto e invece a Roma si era ironico sai che poi c'è qualcuno che blobba senti ma hanno notizia Berrettini Berrettini parliamo dei Berrettini è la tassa è la cabella che devi pagare quando vieni qua Berrettini ha rinunciato a Roland Garros lo vedremo direttamente a Stoccarda a quanto pare quindi su Erba l'anno scorso ha vinto a Stoccarda a Stoccarda e Quinza e poi il Covid che è uno dei preferisco il Quinza in questo circolo meraviglioso tra l'altro lì è girato alcune scene di Match Point di Woody Allen meraviglioso e Quinza è un 500 è un 500 insieme con Allie ha vinto due anni due anni Stoccarda 250 Stoccarda 250 vedremo Melissa sulle tribune del Quinza perché sì ma posso dire tra i mille Roma dove lo posizioni adesso? beh insomma a livello di blasone intendi proprio come immagine del torneo se dovessi fare una classifica di importanza dei mille beh allora io direi che a questo punto Roma la possiamo mettere più di Madrid dai non è per Madrid è che forse tra i mille in questo momento Indian Wells probabilmente ha ancora qualcosa c'è una grande storia India Wells by watch è nel deserto è nel deserto californiano c'è una storia no ma poi soprattutto è un torneo tanto considerato il quinto slam perché comunque ha un campo di partecipazione sempre veramente straordinario e poi perché arriva in un momento del calendario in cui gli australianopensi sono lontani ed è il primo grandissimo torneo che si gioca in primavera Roma fa parte ed è sicuramente un torneo straordinario anche Roma insieme con Madrid e ci posso mettere a livello di tradizione anche Parigi-Bersi che è l'ultimo Masters 1000 della stagione lo posso mettere appena dopo sicuramente meglio di Miami meglio dei due tornei americani che si giocano in estate Monte Carlo pure Monte Carlo beh ha perso la pilce l'ha a livello proprio di Glamour però Monte Carlo è un torneo che ha perso molti colpi nel corso degli ultimi anni Bersi ha anche perso colpi perché essendo l'ultimo torneo dell'anno tanti giocatori già sicuri un po' arrivano cotti ma molti già sicuri magari di essere qualificati per le Finals non hanno motivo di andare a Torino è comunque un torneo che si gioca in una città dove c'è uno slam dove c'è esatto ma che ha sempre questo chiamiamo l'anomalia che è l'unica città a Parigi è la Lazio dei tornei di Parigi a Torino alle Finals ero scelto c'era il tedesco nostro beh io spero e credo di sì perché in questo momento nella race una delle definizioni più belle che ho sentito la Lazio è la niene dei fiumi ma sempre conquistato non è male si può dire di chi è o non mi vorrei sbagliare ma è proprio sua del buon Matteo De Santis ah vabbè ci sta ci sta vabbè Matteo è abbastanza la niene dei fiumi guardate che la niene è la Lazio dei fiumi scusami la niene è la Lazio dei fiumi comunque sì bella bella diciamo che la niene è la Lazio dei fiumi con di Matteo De Santis c'è un repertorio con tutto rispetto per la niene assolutamente c'è un repertorio non molto televisivo che forse prima o poi sveleremo questa è una dei pochi televisivi sì questa forse è l'unica mi sembra sia sua non ne sono sicurissimo chiederemo chiederemo a Buda vieni Pia? no come l'anno scorso esattamente come l'anno scorso io penso mi sto sforzando di ricordare come ero vestito pensa come sto messo potresti vedere hai fatto trasmissione il giorno di Tirana? prima? sì sono andato dopo però mi sono messa la maglia d'aroma ma prima non l'hai fatta il pomeriggio prima? mi pare che no però potrei andare a vedere eh potresti andare a vedere eh dai su no perché l'anno scorso non sono andato perché tutti i finali da Roma c'ero e se n'era vinta una bene continuiamo questo trend non vado a tirare Naro ma vince a Nabuda cioè sono terrorizzato chiedegli il passaporto continuiamo questo trend ultimo cotomeme della puntata lo lancio proprio così allora lo lancio ma lo riprendo e lo tiro sul divano proprio oggi che mi sono fatto male alla gamba Piero non riesco a manca a sedermi sono caduto dalla bicicletta cosa che possono accadere purtroppo a noi atleti ecco carissimo Piero abbiamo tre meme per voi e poi una clip straordinaria il primo ce lo andiamo a vedere subito una classifica rivisitata il famoso golden punticino da 11 punti per la prima volta nella storia la Roma scavalca la Juventus con un pareggio con la Salernitana la Juve che sta perdendo 3 a 0 sta dall'ultimo controllo quindi effettivamente è sesta in solitaria Piero è tutto possibile ancora in virtù di questo? beh la Champions Roma la ritengo abbastanza improbabile e allora passiamo al dialogo intercettato tra Belotti e il mister Andrea si mister quante partite hai fatto in Serie A sta stagione? 28 mister e quanti gol? 0 mister ecco dove vorrei sapere mando cacchio vai questo è il dialogo tra Giuseppe e un Belotti citando Mazzoni di qualche anno fa scoccarburi mando è esattamente questa è la situazione azzeccata del nostro Piero ma attenzione vediamo con il sefardito che vede la Roma abbandonare la Corsa Champions ma almeno finire la gara senza infortuni io questa la considero come una vittoria sei rotto Camerà in realtà però se stiamo a preoccupare pure di Camerà questo è in vantaggio dai però Mourinho ha detto che potrebbe essere stanchezza che Celic sta benino Spinazzola meno Piero Torrismo Gabriele lanciamolo la clip di Piero Torrismo che ci tocca pure stasera come sempre come ogni sera di mettere Push It To The Limits in sottofondo perché letteralmente Al Pacino in Scarface stasera il nostro Piero perché evidente quel sour anche un po' Fonzi è un mix tra Al Pacino e Fonzi preferisco Al Pacino Fonzi francamente però ricorda anche un po' il look di Matteo Renzi su chi nel 2014 qui partà la guerra però poi ci sono i fatti ragazzi torniamo ai fatti dopo uno straordinario consiglio ai nostri amici del New Age non è che se Belotti si mangia un gol come ce ne pippano chi importa e dai e dai e poi comunque in linea generale ma di che se deve lamentare vi ricordate uno scudetto rubato da Juve io me lo ricordo come ce ne pippano ma di che stiamo a parlare ragazzi nelle varie guerre italiane tra Borboni città del Vaticano e Sabaudi con chi ti saresti arruolato chi Borboni tuttavia se non altro perché stavano nel sud d'Italia chi era il Borbone ogni volta che Riccardo viene inquadrato qualunque donna va e lancia un tubero a caso ci dissociamo chiaramente salutiamo però il pubblico femminile è una patata che non è però pieno manco quello manco patata è un tubero chiaramente ma voi voi a casa che me sbuccia il tubero ma non fate ride per favore me sbuccia la patata le patate le patate questo comincia a casa parla me compri il chio le tuberi a me mi sfugge pure la snia che poi non sono solo voi le fai politicamente corretti grazie comunque Giuseppe sicurati dove vede il tubero sana libera tutti fate come vi pare tu in quale Avengers ti rivedi Piero? nel primo ah favore nel primissimo nel primo nel primissimo di Iron Man Iron Man ecco esatto da Vegeta ad Iron Man da Vegeta ad Iron Man arrivederci basta è che andiamo o no? è straordinario come sempre il video di Piero Torrismo inquadrano Cotumaccio perché ormai è il vero anchorman di questa trasmissione buonanotte Alessandro Buonanotte grazie Lorenzo Fares alla prossima ci vediamo presto grazie a voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao Piero buonanotte alla prossima ci vediamo lunedì 29 come sempre alle 21 su Teleroma 56 il canale Twitch di Teleroma 56 seguiteci su tutti i social non c'è Cirulli stasera in protesta con l'arbitraggio di Pareto buonanotte a tutti grazie a tutti